Tentato furto in pieno giorno in via della Concordia nel quartiere Poderino a Fano, è successo ieri mattina intorno alle 11.30 ai danni dell'ex vicesindaco e assessore all'urbanistica Mauro Falcioni. Un attimo di distrazione e la vittima non avrebbe più rivisto al suo Rolex che una donna ha cercato di sfilargli dal polso. Io mi stavo avviando da casa mia verso un negozio di ferramenta quando sono stato fermato da una ragazza, una signora, avrà avuto sui 35 anni, più bassa di me, non era magra, però io non saprei riconoscerla. Mi sembrava che mi volesse chiedere qualcosa e poi mi ha messo la sua mano sul mio braccio sinistro dove tengo l'orologio, al che mi sono subito reso conto che voleva rubarmi l'orologio perché già mi era successo un paio di anni fa e un amico mio a cui hanno rubato l'orologio ha fatto la stessa cosa, messo una mano sul braccio dell'orologio e lui non si è accorto che gliela avevano sfilato. E quindi che cosa ha fatto? Riuscito ad allontanarla? Io l'ho allontanata, le ho preso il suo braccio, l'ho allontanata, le ho detto vai via e questa è andata via subito. Eravamo in questo incrocio, prosegue Falcioni, dopo aver percorso pochi metri, ha raccontato mi sono girato e lei non c'era più, a distanza di mezz'ora, poi l'ex assessore ha saputo che ad un'anziana sua vicina di casa le hanno rubato l'orologio d'oro, sempre con lo stesso modus operandi. Una donna si è avvicinata con la scusa di chiedere aiuto per cercare un lavoro, ha dato all'anziana un biglietto dicendole se avesse notizie mi chiami a questo numero e nel compiere passaggio del foglietto rivelatosi poi un semplice pezzo di carta bianco, le ha sfilato il monile dal polso. La malvivente dopo il furto è salita in un'auto poco distante e sedata alla fuga. Allertate le forze dell'ordine sono subito intervenuti gli agenti del commissariato di Fano ed è stata sporta denuncia. Hanno una grande abilità perché ci sono le cinture di sicurezza, cioè bisogna prima allentare una cintura poi togliere e poi sfilare e quindi lo fanno con una mano sola, lo fanno. Io ho bisogno di usare una mano e ci metto qualche secondo. Questi evidentemente sono talmente abili che nel giro di un secondo riescono a... basta è sufficiente che mettano la mano sul braccio per sfilare l'orologio. Falcioni con un posto su Facebook ha messo in guardia i cittadini. Fate attenzione, ha scritto raccontando l'accaduto. Non fatevi avvicinare e toccare da nessuno. Non so se ce n'è una persona soltanto perché si sente in giro molto che rubano gli orologi e di conseguenza può darsi che ci sia proprio una banda, la banda dei Rolex che se ne vada in giro per le nostre zone. Poi quando hanno fatto un certo bottino se ne vanno in un'altra zona.